La salvezza passa da Piacenza, sabato al Garilli, il Lecco affronta la Feralpi Salò, una partita cruciale nella corsa alla permanenza in categoria. I Gardesani sono ultimi in classifica, tre punti sotto il Lecco, ma stanno attraversando un momento di forma straordinario, tre vittorie nelle ultime cinque partite. Uno sconto diretto, tre punti da noi, vale doppio come abbiamo detto in tante circostanze, vale doppio. E' una partita da non sbagliare, partendo dall'approccio, dall'approccio iniziale. Cercare nei minimi dettagli, nelle piccole cose, episodi, farla subito nostra dall'inizio. Mister Bonazzoli respinge la tesi di un Lecco troppo offensivo e per questo fragile dietro. Si è mancato nelle ultime due, soprattutto, in certi momenti della partita, con l'attenzione di una squadra che si deve salvare e non è stata portata al 100%. C'è l'equilibrio, abbiamo comunque sempre bene o male portato quando si attaccava. Dobbiamo essere più cattivi, più cinici sotto quell'aspetto. Nei momenti chiave o nei momenti dove stai soffrendo, cercare di sbagliare meno. Presentato intanto il nuovo sito web della Calcio Lecco. Molte le novità per i tifosi, dalle quali statistiche e informazioni in tempo reale sulle partite in corso.